Elezioni provinciali 2023 in Alto Adige Questo video spiega in modo facile le cose importanti da sapere per votare. Il 22 ottobre 2023 ci sono le elezioni provinciali in Alto Adige. Le elezioni provinciali sono molto importanti. Alle elezioni provinciali vengono elette 35 persone. Queste 35 persone si chiamano Consigliere e Consiglieri provinciali. Le Consigliere e i Consiglieri provinciali poi lavoreranno nel nuovo Consiglio provinciale. In questo video le spieghiamo le cose importanti da sapere per votare alle elezioni provinciali. Di cosa c'è bisogno per votare? Oggi ci sono le elezioni provinciali. Anche il signor Rossi va a votare. Per votare il signor Rossi ha bisogno della sua carta d'identità e di una tessera elettorale valida. Sulla tessera elettorale il signor Rossi legge. Questo è l'indirizzo a cui andare per votare. Infatti, a questo indirizzo c'è la sezione elettorale del signor Rossi. Ogni sezione elettorale ha un numero. Questo numero significa In questa stanza posso votare. Cosa bisogna fare nella sezione elettorale? Tante persone vanno a votare. All'interno della sezione elettorale ci sono le schiutatrici e gli schiutatori. Le schiutatrici e gli schiutatori sono seduti dietro a un tavolo. Le persone che vogliono votare devono andare dalle schiutatrici e dagli schiutatori. Il signor Rossi va al tavolo ed ha a una schiutatrice la sua carta d'identità e la sua tessera elettorale. La schiutatrice controlla i documenti del signor Rossi. Poi, la schiutatrice dà al signor Rossi una scheda elettorale e una matita. Poi, il signor Rossi va in una cabina elettorale libera. Cosa fa il signor Rossi nella cabina elettorale? Nella cabina elettorale, il signor Rossi apre la scheda elettorale. Sulla scheda elettorale ci sono tanti simboli. Questi simboli sono i simboli dei partiti. Ogni partito ha un simbolo diverso. Il signor Rossi può votare per un solo partito. Il signor Rossi cerca il simbolo di questo partito. E poi, il signor Rossi, con la matita, fa una crocetta sul simbolo di questo partito. Adesso, il signor Rossi ha votato per un partito. Questa è la cosa più importante. Adesso, il signor Rossi può votare anche per le candidate e i candidati. Le candidate e i candidati sono le persone che si presentano alle elezioni. Il signor Rossi ha già votato per un partito. A fianco del simbolo di questo partito ci sono quattro righe vuote. Il signor Rossi può scrivere il nome di una candidata o di un candidato su ognuna di queste quattro righe. Le candidate e i candidati devono far parte del partito per cui il signor Rossi ha votato. Quindi, il signor Rossi può votare al massimo per quattro candidate e candidati. Il signor Rossi deve scrivere il nome e il cognome delle candidate e dei candidati che vuole votare. La scheda elettorale è valida con una crocetta sul simbolo di un partito o con una crocetta sul simbolo di un partito e con i nomi delle candidate e dei candidati. Le persone possono scrivere al massimo quattro nomi. Il signor Rossi dà la scheda elettorale alla scriutatrice. Il signor Rossi ha votato. Poi, il signor Rossi ripiega la scheda elettorale e porta la scheda elettorale e la matita alla scriutatrice. La scriutatrice mette la scheda elettorale del signor Rossi nell'urna elettorale. Poi, lo scriutatore fa un timbro sulla testa elettorale del signor Rossi. Questo timbro significa Il signor Rossi ha partecipato alle elezioni provinciali. Adesso, il signor Rossi ha votato. Alla fine, lo scriutatore restituisce al signor Rossi la sua carta d'identità e la sua tessera elettorale. In Alto Adige, tante persone vanno a votare come il signor Rossi. Tutte queste persone insieme hanno votato per il nuovo consiglio provinciale. Importante! Il 22 ottobre 2023 ci sono le elezioni provinciali in Alto Adige. Ha bisogno di altre informazioni? Lei trova maggiori informazioni nel nostro quaderno in lingua facile sulle elezioni provinciali. Il 23 ottobre 2023 ci sono le elezioni provinciali in Alto Adige.